Per scrivere una buona sceneggiatura bisogna partire da un'idea e quindi questa è una cosa imprescindibile. Scrivere bene del nulla è una cosa che funziona benissimo in un romanzo, è una cosa che può funzionare abbastanza bene in un film, ma è una cosa che non funziona nel fumetto. Il fumetto deve avere un nucleo, quel nucleo è qualcosa che può estrovarsi all'inizio, alla fine, a metà in generale nel mondo del fumetto, mentre per Dylan io ho un'idea molto più precisa, però il nucleo ci deve essere, cioè ci deve essere un qualcosa, è come un semplice messaggio, chiamiamolo dardo, chiamiamolo pallino da ping pong, ma è qualcosa che deve passare da chi lo crea, autore, sceneggiatore, disegnatore, a chi lo riceve. Se non c'è questo passaggio è una scatola ed è vuota.